Come si chiama la strada che abbiamo appena attraversato? Via Partenope. Promossa. Perché si chiama via Partenope? Magari in interrogazione. Bocciato. Perché pure questo è un luogo magico. Partenope. Chi era Partenope? Asireno. Bravo. E tu come lo sai? Il mio padre ha raccontato questa storia. Che ti ha raccontato? Che era morto lì. Dove? Su quello scoglio. Su quello scoglio là? Sì. E come è morto? È stato Ulisse. Che si è affrontato le orecchie, non l'ha sentito. E lei è morta. È morta per una donazione da un uomo. Lei cantava Ulisse, non l'ha sentita? No. Ma voi l'avete mai sentita cantata? No. Tu? No. Dei pescatori vecchi. Mi hanno raccontato che lei cantava, cantava. Ma ora non canta più. Ah, non canta più? Non canta la sireno. Sì. Sei di sicuro che non guarda? Partenopei? Per chi sono partenopei? Eh certo, perché sono sicuro? Partenopei! Noi siamo partenopei! Partenopei! Noi siamo partenopei! Ciao Agliù! Partenopei! Noi siamo partenopei! Partenopei! Noi siamo partenopei! 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 Ho... Voi!